Telefonata anonima e un'auto sospetta con tre persone a bordo notata più volte davanti a casa. Una situazione che il sindaco di Piacenza Paolo Dosi ha segnalato alla questura lo scorso novembre e che ha portato il questore Calogero Germanà a istituire un servizio d'ordine e vigilanza con frequenti passaggi a intervalli regolari all'abitazione della famiglia Dosi da parte di polizia e carabinieri. Non è stata ravvisata alcuna specifica minaccia personale nei confronti del primo cittadino ma è stato disposto un rafforzamento dell'attività di vigilanza nell'area di via Farnesiana. Da tre mesi la casa del sindaco è dunque sorvegliata speciale. Non c'è nessun allarmismo per evitare, credo che anche la polizia abbia ritenuto opportuno vista la situazione complessiva mettere in campo una tutela maggiore però non ci sono elementi di gravità. Grazie. 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 Grazie.